Cioccolatiamoci, nome più corretto, non poteva esserci per un momento davvero dolce di solidarietà organizzato dalla confraternita misericordia di Andrea all'interno dell'ambulatorio Solidale Noi Con Voi, un appuntamento che ha visto una buona partecipazione per questa prima edizione di Curiosi e Partner del progetto Solidale ed in cui sono stati raccolti fondi per assicurare visite specialistiche sospese da dedicare a chi non ha accesso costante alle cure Grazie alle sapienti mani del maestro cioccolatiere Mario Ferrante, tra le altre cose un volontario della misericordia di Gravina, è stata proposta una degustazione di dolci realizzati per l'occasione Un momento di condivisione tra volontari Giallo Ciano, Partner e Comunità Cittadina per proseguire la preziosa attività dell'ambulatorio che ha ormai raggiunto le oltre 300 prestazioni gratuite offerte a chi più ne ha bisogno nelle diverse specialistiche attivate nel progetto Noi Con Voi grazie al prezioso contributo di medici volontari, visite gratuite per i più bisognosi, per gli emarginati e per coloro i quali hanno necessità impellenti ma non possono permettersi l'attesa di alcune liste della sanità pubblica. Molti cittadini hanno nell'ambulatorio Noi Con Voi ormai un punto di riferimento anche per una semplice misurazione di pressione e parametri, ovviamente tutti bisognosi e con i se e basso. Ma il progetto Noi Con Voi non è solo visite gratuite ma anche un insieme di altri progetti grazie alla collaborazione tra la Misericordia, il Calcite e l'Associazione Giorgia Lumuscio, oltre all'Istom, l'Uepe e la Caritas Diocesana, importante anche il contributo di diversi partner privati per un'idea nata in sordina ma che ora diviene sempre più presente sul territorio cittadino in ausilio alla sanità pubblica anche grazie al protocollo d'intesa firmato negli scorsi mesi con l'Aslo BT.